Sì, no, io non ho il tatuaggio, non so, ne parlavamo qua... Sì, sì, io ne ho uno piccolino, un diavoletto rosso sul fianco, col pannolino e il corpo di... nelle mani, giustamente, giustamente, con tutti questi bambini che abbiamo. Ma certo, come è questa per arrivare? Certo, certo. E il marito cos'ha che... Sì, sì. Sì, anche io ho un piccolo tatuaggio, una rosa con una spada, ma molto, molto piccolo, insomma, fatto vent'anni fa, insieme abbiamo fatto. Ah, ma sono dedicati recentemente? Sì, l'abbiamo fatto nel 92 in Sudafrica, durante una vacanza. Dovete preso la mente? No, 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 no. Michele, puoi chiedere ai ragazzi se sono contenti che i genitori sono tatuati, se loro si tatuerebbero? Sì, sì, ma ti sentono, ti sentono e quindi hanno le palette e siete contenti che... Ecco. Vi fareste quel tatuaggio? Avete l'altra paletta? Ah, ecco, bravo. Ma guarda che quando uno fa così col capo, devo dire che non c'è più la paletta, Michele. Comunque avevamo capito che no. Non so già, non so già che sta per arrivare un'altra domanda, vediamo. No, non lo so, no, non si farebbe nessun tatuaggio, quindi neanche I Love of Cuts si tatuerebbero. Immagino, cerca proprio a convincerle mentre siete là.